Padova da sempre è una città aperta al mondo. La nostra università, la nostra storia lo dimostrano. È una città internazionale, abitata da persone che provengono da più di 50 paesi diversi. Molte di queste non hanno la cittadinanza italiana e europea e quindi non possono votare. Sono però tutte persone padovane, per questo è importante dare loro voce. Lo facciamo attraverso la Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera. La Commissione avrà potere di proposta e sarà consultata dall'amministrazione sui più importanti temi della città, così che tutti e tutte possano sentirsi riconosciuti e riconoscersi nella nostra comunità. Una comunità che dà valore alle differenze è una comunità più ricca e più forte. Si vota dal 14 giugno al 14 luglio negli spazi dei quartieri. Partecipate e invitate a partecipare. Padovano la città solidale dei diritti e dei doveri e uniti saremo i più forti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.